Com'è Simona? Allora ricordiamoci che con Simona e Deborah e Marcus stiamo partendo con una forma avanzata per gli studi con l'S-Drive per le problematiche elettromagnetiche e affini correlate anche a stress ossidativo, al microbiota eccetera. Allora, come tutti dovrei parlare per 4 ore, ho 20 minuti, forse 30. Andiamo rapidamente sulla prima diapo, anzi mi sembra il... Allora, molti di voi già mi conoscono, io mi occupo di nutraceutica, nutrizione, incremento della performance psicofisica, anti-aging tecnico, che non è quello teorico ma è quello pratico applicativo, sono l'ideatore del metodo, metodologia anti-aging, anti-stress che ho portato, non con poca fatica, alla sapienza, cattedra di farmacologia, vittoria spammer e fisiologia generale. Un master che è durato 4 anni di seguito, rinnovato, è stato impegnativissimo, lo rifaremo a breve. Come mai i campi elettromagnetici che sono questa strana cosa invisibile di cui non se ne parla mai ma avete tutto il cellulare vicino, giusto? Io no. Bravo. L'hanno rubato. Ecco, a me l'hanno rubato ieri, sarà un sintomo. L'ho fatto di prevenzione. Allora, come sempre molti di voi sanno, la mia passione per nutraceutica e nutrizione mi ha portato a diventare docente circa una trentina di anni fa. Ho partecipato a circa 200-300 formulazioni quando prima Simona diceva agli eccipienti, io potrei fare una lezione di qualche ora solo sui danni da eccipienti con overdose di bibliografie. L'abbiamo già fatta e alla scuola, quindi intanto andatevi a vedere l'ultima lezione che ho fatto alla scuola, che poi vi dovete chiedere a Giorgio, ho riportato qualcosa di recentissimo, ovvero una correlazione fra nutraceutici e campi elettromagnetici, ma i lavori, non le ipotesi, lavori recentissimi che, guarda caso, sono tutti su PubMed, ma per cercarli bisogna faticare un po'. Sapete questa situazione? Cercate un lavoro ma non esce mai subito, bisogna andare avanti. Le note bibliografiche che ho riportato sono circa 150 e i lavori recentissimi, diciamo dal 2020, 2022 e 2023. Come mai c'è tanto interesse in ambito internazionale su queste problematiche? Semplicemente perché, come ho dimostrato in quest'ultima lezione, note bibliografiche numerose, i campi elettromagnetici artificiali incrementano lo stress ossidativo, l'infiammazione, vi faccio proprio una sintesi pari pari, semplicissima, stress ossidativo, infiammazione, anomalie del microbiota intestinale, diciamo come i batteri e i virus sono influenzati dai campi elettromagnetici. Assolutamente sì, ma attenzione, a seconda della frequenza, della intensità, del tempo di esposizione, alcuni campi elettromagnetici favoriscono una sovracrescita batterica e aumentano il rischio di effetto boomerang degli antibiotici. Chi non ha letto questi lavori può sembrare una novità, ma queste cose sono note da anni. Altra cosa, se io vi dicessi che alcuni campi elettromagnetici ad alcune frequenze possono influenzare lo stato emotivo, la mente, o in incremento della performance psicofisica, oppure possiamo rimbambire le persone sino ad arrivare a creare dei veri e propri, rimbambire il termine scientifico, giusto? Sino ad arrivare a far sentire male quella persona, col classico senso di disorientamento, dicendo ma come, allora qualcuno da anni sta studiando in ambito militare queste cose? Sì, da quanto? Dagli anni cinquanta. Ma come? Da dopo la seconda guerra mondiale? Sì. Dice perché non se ne parla? Molto semplice. Perché solo in questi ultimi tempi gli stressors di natura elettromagnetica come numero sono aumentati. Che significa come numero? Sino a pochi anni fa avevamo 50 hertz della rete a 230 volt e quindi avevamo, sempre su base bibliografica, un'anomalia nella endosintesi della melatonina notturna. Ci sono diversi lavori. E perché? Vedremo dopo, esiste un tuning, una sintonia, una risonanza, frequenza e onde cerebrali. I 50 hertz sono una iperattività. Invece se ci sintonizziamo sulla frequenza che ha studiato Schumann, quindi intorno agli 8 hertz, tramite i giusti tempi di esposizione, tramite la giusta intensità, quindi servono dei dispositivi adatti, possiamo incrementare il tipo di rilassamento. È la teoria del tuning. Allora, molto rapidamente. Quando io ho una pila, che frequenza ho? Chi mi risponde? Quando ho una pila, che frequenza emette? Che frequenza? Che frequenza avrà? Non lo sa nessuno. Ve lo dico io. Zero. Se io collego all'oscilloscopio una batteria, vedo una linea. Ora poi vi farò vedere, nel mio laboratorio, varie strumentazioni, certe dismesse dalla NASA italiana, e me le sono fregate, ho comprato io. E altre invece, molto più recenti, digitali, ma sono utili perché i sistemi biologici, tramite il pensiero, sono velocissimi. Tante ricerche degli anni 50-60, quando venivano utilizzate strumentazioni analogiche, non avevano la possibilità tecnica di registrare per la lentezza, per l'inerzia del lago e della bobina, la velocità con cui la mente altera i fenomeni bioelettrici del corpo umano. Allora, dopo 0 hertz, però, che cosa ha? Ha un hertz, due hertz, tre hertz. Iniziano le frequenze, quindi iniziano, per esempio, sinusoidi. Ricordiamoci che le forme d'onda sono tante, prima vi ho parlato di frequenza, intensità, tempo di esposizione, come fosse una radiazione di tipo nucleare. Giusto? Solo che quelle nucleari sono ad alta energia che si chiamano ionizzanti. Con gruppi di ex militari, sono un ex NBC, guerra nucleare batteriologica chimica. Monitoriamo con modernissimi e anche economici contatori Geiger da Italia Nord a Italia Sud. Dove si accade qualcosa all'improvviso? E perché andiamo a monitorare? Perché se devo assumere delle pasticche di iodio, le devo fare nel momento in cui ho un innalzamento rapido, repentino, che magari non ci avvertono, se le assume troppo presto sono poco efficaci, troppo tardi sono poco efficaci. Quindi significa che monitorare ci serve. Ma questa non è la zona dei dispositivi. Stiamo parlando di raggi che possono venire fuori o da Fukushima, da fenomeni del genere, oppure da esplosioni di un ordigno nucleare, voluto o accidentale. Perché noi oggi viviamo questa situazione e vi devo dire che se vi dico quante basi abbiamo in Italia, vi prende un colpo. Altri tipi di radiazioni è nella luce visibile. Il ritmo luce, buio, pineale, melatonina, ha a che fare con l'esposizione alla luce durante il giorno e la notte buio. Oh ma come i ritmi cronobiologici vanno così a influenzare? Assolutamente sì. Quindi abbiamo parlato poco di sonno, ho fatto intere lezioni sul sonno, tecniche di rilassamento, bla bla bla. Come mai? Perché il sonno di qualità è il pilastro di ogni sistema anti-aging. Proprio dal punto di vista del PNEI, e io dico oggi integriamo il PNEI col gut, brain, liver, axis. Cioè ormai siamo una connessione enorme. Ma quindi quanti tipi di stressors elettromagnetici abbiamo? Quindi 50 Hz, intorno a megahertz, e gigahertz. Tutti ci permeano contemporaneamente. Quindi possiamo avere noi un'esperienza nel passato? Secondo voi? No. Perché è una condizione nuova. Ok? Nuova. Anche tutti i ricercatori, mi è capitato di farne parte, ma lavoravamo su che cosa? Ratti, topolini. Quindi possiamo ipotizzare ma poi per quanto tempo? E' mai stato fatto uno studio in cronico per dieci anni di seguito? Megahertz, hertz, gigahertz. Tra un po' arriverà, 20, 30, e rotti gigahertz. Chiaramente siamo in questa zona, grosso modo, no? Come vedete qui non abbiamo i cellulari di quinta generazione. Ma noi sappiamo che andiamo in quella zona là. Riassumendo il concetto, mai come prima d'ora abbiamo tutti questi assalti che ci permettono contemporaneamente. Ok, a livello biologico, a parte una interferenza costante sui nostri fenomeni bioelettrici, dobbiamo ricordare che quando abbiamo un fenomeno bioelettrico c'è anche bioelettromagnetico. è un principio della fisica. Passano elettroni, campo elettrico, o anche ora, poi vedremo una bella immagine. Allora, cosa significa questo? Queste sono sinusodi, ricordiamoci che abbiamo onde triangolari, onde quadre, abbiamo una marea di tipi di onde, quelle che sono state anche sperimentate. E' un concetto semplice. Più aumento la lunghezza d'onda, a parità di impostazioni d'oscilloscopio, vedo le onde più fitte. Ok? Frequenza più alta, onde più fitte. Questo principio quindi vale per i campi elettromagnetici, per le onde acustiche, quindi vedremo che c'è una, per la luce visibile, c'è una correlazione fra campi elettromagnetici, range del visibile, range acustico. Qual è il range acustico? 20-20 mila, grosso modo, hertz. E questa riassume quello che ho appena detto. Quindi, quando i vostri colleghi vi chiedono, ma in medicina come si applicano i fenomeni bielettrici? E' semplice. Cominciamo col meno noto, l'elettroretinogramma, elettromiogramma, ovviamente l'elettrocardiogramma, elettroencefalogramma. Quello che è particolare è che per cervello cranico e cervello cardiaco, poi avremo delle belle immagini e diapositivi sul cervello cardiaco e per il suo campo elettromagnetico, ci sono due sistemi che ne misurano il campo elettromagnetico, sapevate? Ora vi faccio vedere le bibliografie. E' più preciso? E' molto più preciso? Quindi il magnetocardiogramma è molto più preciso. Questo è uno scorcio del mio laboratorio, tanta gente dice ma chi è un oscilloscopio? Eccolo qua. Questi sono due tipi di oscilloscopi, Tektronix, made in USA, senza compromessi, perché quando faccio una ricerca mi chiedono come le rilevate, se lo rilevate con uno strumento considerato da poco, errore di misurazione, e invece no, ci sono le tarature, eccetera. Questo che vedete qua, invece, è uno oscilloscopio di tipo digitale, velocissimo, ci possiamo vedere attività del cuore, attività del cervello, di millisecondi, un'emozione, puff. Dice ma come? Io rievoco qualcosa di bello e quindi con l'elettroencefalogramma vedo che mi aumentano un pochino le onde alfa. Vedo che mi si rallenta un pochino la frequenza cardiaca, se il soggetto si è allenato a quelle tecniche di visualizzazione, che potrebbe essere un software mentale, deve essere stato registrato bene nella mente, e poi rievocato. Sembra autoipnosi? Sono tecniche che ho insegnato in ogni tipo di ambito, dal manager al medico a militari, eccetera. Questi sono ancora altri strumenti, dove qui, non si vedono bene, ma sono i rilevatori di campi elettromagnetici. In questo ambito c'è stata una rivoluzione tecnologica incredibile. Oggi, relativamente con pochi soldi, chiunque può bonificare, ottimizzare il proprio studio, la propria casa, dove sta, per identificare il luogo dove questi campi elettromagnetici, come intensità, sono più bassi. Possiamo tornare a uno stato di natura? No. L'unica cosa pratica, operativa, è quella di andare a identificare questi campi che decadono molto rapidamente. Fortunatamente. Se nel mio studio o nel mio condominio ho il vicino che ha il modem wifi di ultima generazione, magari ce n'ho uno sotto, uno sopra e uno alle spalle. I modem wifi di ultima generazione mandano segnali costanti e basta? Chi lo sa? Mandano sia segnali costanti, facili da misurare, sia impulsi. Ho misurato parecchi modelli, alcuni di questi impulsi superano di parecchio anche quelli che dovrebbero essere i limiti di legge. Però sono impulsi che possiamo rilevare con rilevatori di campi elettromagnetici digitali ad altissima velocità di reazione che percepiscono questi impulsi che durano quasi niente. con altri tipi di strumenti che non hanno questa velocità di aggiornamento, non è possibile. Ma guarda caso anche la mente, se noi cominciamo a vedere come posso misurare qualche campo elettromagnetico biologico visto che sono a bassissima intensità, sì, faremo probabilmente in futuro un workshop per insegnarvi come fare. Cambia la vita, sembra poco. Ecco, ecco, due modelli di rilevatori di campi elettromagnetici. Uno è famosissimo, il Trifield, usato anche dalla CIA per la rilevazione delle microspie. Un pezzo di storia. E uno più moderno che è invece il Cornet ad altissima velocità di reazione e ci permette di misurare anche quello che vi ho appena detto. Ma la risonanza, quindi, noi possiamo essere influenzati da campi elettromagnetici per un principio che si chiama appunto risonanza o tuning. Ma questo principio non è lo stesso principio su cui si basa questo? Questo e tanto altro. Quindi la risonanza, il classico esempio, è due di apanus uguali, ne urto uno, l'onda mette in risonanza il secondo, il secondo suona ma non è stato mai toccato. L'esempio è quando ne metto dieci tutte in fila, si mettono a suonare tutti. Immaginate che ogni nostra molecola può entrare in risonanza. Ora, questo problema è, ma questa risonanza è costruttiva o distruttiva? La Callas riusciva a spaccare bicchieri di cristallo. Ma anche quello è un fenomeno di risonanza? Ma è distruttivo. Alcuni maestri di arti marziali conoscono una tecnica che si chiama DIMMAC, che praticamente è uno sfioramento e magari il pancreas comincia piano piano a sbriciolarsi in giro di due o tre giorni. Perché? Ma oggi lo sappiamo. Dalle mani, oltre al campo elettromagnetico, c'è una fuoriuscita di fotoni, anzi o meglio, biofotoni. Chi li ha scoperti? Il professor Pop, ricerche poi portate avanti da Svart, Sekiller e tanti altri. Tiller, ti ho detto killer? Nessuno se n'è accorto? Tiller. Un esperimento che fa capire al volo è lo spostamento di una pallina che prima è ferma e viene mossa dalle vibrazioni fisiche. Ergo, se questi sono dei diapason, quindi sono vibrazione meccanica, se io avessi, immaginate, un dispositivo che emette un campo a frequenza che dico io, con una potenza molto più alta, mi va a creare una vibrazione che va a spostare questa pallina. Ma se queste palline sono cellule, cosa succede? Cominciate a capire, no? Quindi sto arrivando rapidamente. Campi elettromagnetici, possiamo avere sia effetti sanitari, vedi magnetoterapia, elettroagopuntura, e ho fatto medicina tradizionale cinese, ayurveda. La cosa particolare è che in medicina tradizionale cinese i nostri professori si fanno chiamare sifu, almeno da quelli che erano, sapete cosa vuol dire? Maestro. Non si fanno chiamare professori. Professori è roba da poco, chiunque può diventare professore. Maestro no. Certo, per me era incredibile, ma come questi riescono a far vibrare, prima con chi ho fatto? Con qualcuno di voi. Con lui. Abbiamo appena appena sentito una vibrazione sulle mani. A questa concentrazione, quindi per i biofotoni, ricordatevi, Pop ha scoperto che c'è intenzione e concentrazione, equivale sulle mani a una vasodilatazione, aumento del calore. Sembra qualcosa di strano, eppure sono biofotoni. Cioè, chiunque può misurare con una termosonda, se uno abbastanza allenato, che c'è un aumento del calore. Abbiamo parlato di quelli artificiali e di quelli naturali? Ricordiamoci che anche il sole crea, per esempio, a primavera, una serie di anomalie elettromagnetiche che qualcuno rinasce, si sente forte, altri invece mal di testa, palpitazioni. guarda caso sintomi molto simili, lamentati dagli elettrosensibili. Sono gli stessi sintomi. Solo che gli elettrosensibili ce l'hanno per cause di stress elettromagnetico artificiale. Ed altri invece a primavera per una iperattività coronale. Allora, questi sono gli effetti termici tipici del cellulare. Allora, qui vado proprio velocissimo. Ricordiamo solo che il campo elettrico, attenzione a questo, il campo elettromagnetico sono perpendicolari, quindi sono ortogonali, ma la cosa più importante è che sono tridimensionali. Quindi usciamo dalla due dimensioni, sono tridimensionali. Quelle immagini che avete visto prima, immaginate che questa ruota va verso di voi, ma se di questi campi elettromagnetici ce l'ho, dal modem wifi, dal cellulare, dal tablet, più trasmissioni radio tv, quante di questi campi elettromagnetici a vortice ci permiano? Ok, vi faccio una microsintesi della lezione che però vi dovete andare a vedere per le bibliografie. La riduzione dell'endosintesi del glutatione da campi elettromagnetici. È dimostrata? Sì. Andate a vedere tutte le bibliografie. Riduzione delle catalasi. È dimostrata? Sì. Del superossido dismutasi della SOD? Sì. Allora, in generale, abbiamo un incremento dello stress ossidativo indotto da campi elettromagnetici che si aggiunge a tutto lo stress ossidativo indotto da altre cose. E i metalli? I metalli pesanti? Ah, questo è ancora più particolare. I metalli pesanti risuonano, in modo negativo, con alcuni campi elettromagnetici, peggiorando ancora di più la loro situazione. Allora, solo per mandarvene una, vedete, si parla di magnetoencefalografia. E ancora, magnetoencefalografia, come vedete, c'è questa parola quantum. Ma questo è PubMed, non è medicina all'avanguardia. Oh, guarda. Quindi, allora, se io voglio, mi posso documentare. Sì, questa è medicina ufficiale, non è medicina alternativa. Arriviamo, prima abbiamo fatto l'esperimento della estensione delle braccia. L'estensione delle braccia è il chakra del cuore. È stato detto da Bartolo e da Eugenio. Ora, una cosa fondamentale è che questo, prima, che questo fenomeno, anche se ormai parliamo degli anni 90, non è ieri, se l'avessimo detto negli anni 80, ci avrebbero buttato fuori dall'università. Invece, sappiamo che oggi non solo ha un campo elettromagnetico più intenso di quello del cervello, ma ora poi vi chiederò, ok, ma questo che orientamento ha? Lo potete immaginare? Adesso vedremo delle belle immagini. Molto rapidamente abbiamo sei gangli distribuiti in tutto l'organo, sei miliardi di connessioni. Ah, ok, quindi ho cervello cranico, cervello cardiaco, cervello gastroenterico o addominale. Comunicano? Comunicano attraverso vari tipi di impulsi. Quindi, per farla breve, tutto ciò che è elettromagnetismo artificiale va ad alterare le comunicazioni bioelettriche e bioelettromagnetiche perché, come il compianto professore Emilio del Giudice, che voi avrete sentito nominare, uno dei miei riferimenti per anni, diceva il campo elettromagnetico umano è una sorta di governatore che ci permette di far sì che i numerosissimi scambi biologici, gli incontri di molecole, avvengano senza errori, dicendo che sono miliardi di questi scambi, sono un numero enorme. Altra cosa fondamentale è che quanto siamo costituiti di acqua? Circa il 70, ma come numero di molecole? 90-99. Vi ricordate che è stato a scoprirlo? Pollack. Il professor Pollack l'ha scoperto studiando le fibre muscolari. Altra cosa fondamentale, quest'acqua che è dentro di noi è acqua normale? È H2O? H3O+, lo ione idronio? O come è fatta? Una parte, questo è fondamentale, per capire lo stress di natura elettromagnetico, perché una parte di quest'acqua si dice strutturata, organizzata, ed è il motivo per cui noi abbiamo una solidità. Esempio della medusa. Sapete, la percentuale di acqua della medusa è superiore all'acqua che la circonda. Come fa a essere solida? la medusa è più diluita dell'acqua che la circonda. È gelatinosa perché è tenuta insieme dall'acqua strutturata. Ma che c'entra questo dispositivo e un altro dispositivo che è la vitalizing card? vedremo che avremo oltre ai guai una serie di rimedi e io sto studiando questo ma anche un altro dispositivo. Ho iniziato a studiare quello più vecchio che era in metallo fino ad arrivare a questo che guarda caso ci aiuta a recuperare molta forza. Molti di voi l'hanno già provata hanno visto che cambia un po' il gusto ma la cosa più importante è che fa aumentare la forza diciamo istantanea la concentrazione e l'equilibrio fisico cioè le tecniche di equilibrio. Vi ricordate quando un relatore oggi parlava di una tecnica di equilibrio ora poi vedremo rapidamente ecco un'altra cosa naturale guardate questa questa è naturale un minuto devo correre devo andare proprio va bene frequenza di Schumann allora questo è il pianeta Terra questo è quello come vi fanno vedere in realtà è così tridimensionale frequenza di Schumann oscilla quindi non sono i classici 8 verse che ci dicono ma oscilla in base a tempeste quindi attività dei fulmini e cosa più particolare attività solare quindi per il tuning noi possiamo partire da intorno agli 8 arrivare anche ai 30 40 50 poi ritorna al valore originale ecco questa è la misurazione della frequenza di Schumann questa è la prima che abbiamo utilizzato su cui abbiamo fatto diverse esperienze e abbiamo visto che per una serie di motivi elettromagnetici mi ci vuole troppo tempo c'è un minuto forse neanche abbiamo una elaborazione dell'acqua cioè ci aiuta bevendola ci aiuta ad aumentare la nostra acqua strutturata di cui endogena di cui vi abbiamo parlato prima il risultato finale empirico indovinate in quanto tempo posso misurare questo risultato finale empirico 1-2 minuti dopo 1-2 minuti di trattamento allora quindi questa che cos'è è la stessa spirale giusto? la vedete la riconoscete questa è di natura ricettiva quindi il segnale analogico arriva dal bulbo convertitore analogico digitale viene spedita in Germania ritorna in digitale viene riconvertita abbiamo il report questo invece emette un debolissimo campo elettromagnetico di intensità biologica ma si misura con gli strumenti più sensibili ma tantissime prove pratiche che abbiamo fatto abbiamo visto una differenza se viene impugnata o semplicemente tenuta in tasca tenuta impugnata e con un po' di concentrazione aumenta notevolmente l'effetto per quale motivo? probabilmente il discorso intenzione concentrazione allora devo proprio correre correre il mondo delle spirali è un mondo estremamente affascinante ma fate attenzione quanti migliaia d'anni ha? cosa vi ricorda? guardate bene questa tecnologia da dove salta fuori? guardate bene quest'altra questa è India utilizzavano nella spirale l'acqua e quest'acqua veniva fuori secondo le antiche tradizioni empiriche ottimizzate ma non basta Spagna guarda qua e non basta ancora Turchia guardate bene è la stessa con qualche spirale in più vado rapido ok allora quindi noi abbiamo tutta questa sulla quale io sto studiando intensamente guardando anche i vari strumenti che cosa abbiamo visto? che molte persone escono con prioritario 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 per esempio a corrente di trazione sapete tutti cos'è? non sapevi? vero? anche al master la maggior parte molta gente non sa cosa per esempio sono i motori che stanno sui treni da notare che è 16 hertz e due terzi ed in turnie grosso modo nelle persone che non hanno viaggiato in treno questo sta bassissimo ma se si è fatto un viaggio in treno a lungo e si fa subito dopo il test ci si potrebbe trovare un in P poi abbiamo se siamo stati vicino a magneti naturali qual è la frequenza di un magnete naturale è come la pila ok? perché non ne abbiamo già parlato ma la maggior parte la gente non lo sa ok? quindi una cosa è il campo magnetico statico un altro è il campo elettromagnetico dove oltre al magnete magari c'è una bobina in mezzo passa la corrente e si crea il campo elettromagnetico allora faccio rapido ve la devo far vedere per forza questa è la vitalizing card cosa vedete qui? niente non c'è nulla ok? non sto misurando niente mi sto avvicinando mi sto avvicinando ancora non misuro niente ecco qua vado a toccare il centro del chip vado a misurare una sinusoide con un oscilloscopio digitale di ultimo tipo e vedo una sinusoide con delle armoniche sopra la sinusoide se mi sposto di poco trovo una lieve inversione della sinusoide ma a noi ci interessa relativamente sono andato a smontare una di queste l'ho spaccata l'ho aperta dico ma come questo chip come è fatto? anche perché chi di voi ce l'ha ha visto che è bassissimo la tecnologia per inserire la compressione è una tecnologia molto particolare che giustifica che non costa due soldi eccolo qua questo è il microchip ora ve lo faccio vedere eccolo spostati appena appena ok allora vedete c'è un microchip interno e altri a raggera tutti collegati tra di loro questo vedo ancora meglio quindi rispetto al modello in metallo noi abbiamo il campo elettromagnetico che scaturisce dalla spirale vediamo un vecchio modello nel nuovo modello questo campo elettromagnetico della spirale passa attraverso il microchip che lo amplifica a sua volta la particolarità di questo è che associa i campi elettromagnetici umani ai biofotoni ai fotoni stessi quindi noi qui abbiamo più azioni contemporaneamente quello che sto proponendo a Giorgio è un workshop in cui vi sperimentate per misurare l'incremento della forza l'incremento dell'equilibrio e la particolarità dell'acqua cioè l'acqua messa un bicchiere d'acqua messo sopra la spirale dopo un po' cambia il sapore e qua finiamo ricordandovi che il concetto di aura o campo elettromagnetico era già stato affrontato in modo empirico migliaia di anni fa ma sino a poco tempo fa non si poteva parlare di questi fenomeni allora per ora mi devo fermare qua andate a guardare della scuola la relazione campi elettromagnetici e nutraceutici grazie grazie e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti